Come uscire velocemente da un blocco mentale. Step 1. Capisci qual è il tuo desiderio insoddisfatto e chiediti quanto ne vale la pena. Se la tua risposta non supera tutta la mia vita, lascia perdere. Step 2. Impara a non dare troppo peso al giudizio degli altri e nemmeno al tuo se ti poni sempre in difetto verso te stesso. Ricorda che il giudizio è una cosa, la realtà è un'altra. Step 3. Elimina le tue false aspettative e concentrati sul vivere al massimo il tuo presente per farlo diventare così il futuro che desideri e non il contrario. Ti sembra tutto molto complicato, molto difficile? Vuoi essere affiancato in questo percorso? Allora scrivimi info in DM su Instagram e vedrò di aiutarti a sbloccare la tua situazione.